Tre modi per usare il ceramis. Ma cos'è il ceramis? Si tratta di un piccolo granulato di argilla, capace di trattenere molto più a lungo l'acqua al suo interno. Io lo uso così. Primo metodo, per rimettere in sesto piante malandrate e farle ripartire. Secondo metodo, per far radicare più velocemente le talee. Terzo metodo, per creare un substrato più ricco e umido, perfetto per alcune piante più esigenti, come ad esempio marante e calatee. E tu lo conoscevi?